Aumento di anidride carbonica e degasserre in atmosfera, cementificazione selvaggia. La natura adesso ci presenta il conto, le temperature aumentano, i regimi delle precipitazioni si modificano, i ghiacciai si sciolgono e il livello medio globale del mare è in aumento. E secondo gli esperti in futuro dovremo abituarci a fare i conti con fenomeni come quelli di questi giorni e sempre più estremi. Le cosiddette bombe d'acqua, termine mediatico coniato per indicare i temporali di forte intensità durante i quali in poche ore può cadere la pioggia, che normalmente si raccoglie in alcuni mesi, potrebbero essere sempre più frequenti. Ma se è vero che gli eventi naturali non possono essere previsti, le catastrofi possono quantomeno essere evitate con il controllo del territorio. Nei prossimi anni decisiva sarà quindi l'attività di prevenzione delle amministrazioni, dalla pulizia dei tombini, delle caditoie e dei fiumi, fino allo studio di piani di assetto idrogeologico. Correre ai ripari si può con interventi mirati nei periodi di quiete, che evitino panico e caos durante e dopo la tempesta.